Oggi siamo una delle regioni in Italia che investe di meno nella cultura. Per trovare risorse io credo che una giunta rinnovata deve cercare di procedere attraverso una maggiore efficienza della macchina amministrativa a liberare delle risorse, generare dei risparmi che vadano indirizzati prioritariamente alla cultura proprio attraverso il riconoscimento della sua importanza e della sua necessità. Bisogna favorire il coordinamento e l'interconnessione tra i diversi assessorati in Regione e con gli altri entri locali per evitare che ci sia una dispersione degli interventi e delle risorse che vanno alla cultura. Bisogna dare una maggiore considerazione alla formazione giovanile e credo che sia necessario sostenere il più possibile le attività e il lavoro che fanno i giovani in questo settore cercando di riportare il senso di una dignità del lavoro per le persone che lavorano in questo ambito e sostenendo in particolare le imprese e le attività giovanili.